Speriamo che almeno la giornata di oggi passi in fretta senza danni e senza eventi atmosferici. Riguardo le previsioni, da ieri a oggi sono cambiato perché io sto in contatto direttamente con la protezione civile. Portava acqua abbondante già dalle 18, invece adesso si è spostato un po' alle 20, però non è più abbondante ma sono pochi millimetri. Speriamo che non arrivi un evento forte come l'altra volta perché stiamo finendo di lavorare. Credo che altri due o tre giorni si finiscono le cose più urgenti e poi si continuerà con le fogne e tutte le gratitudini. Quello è un lavoro che bisognerà fare nelle prossime settimane. Col sole magari ci sarà possibilità di operare anche con meno ansia. Sì, così si darà la possibilità di lavorare alle ditte in tranquillità e con più precisione perché si sa che la fretta non porta mai buoni risultati. Sindaco, non so se vuole lanciare un ulteriore messaggio ma noi abbiamo visto stamattina altri volontari arrivare e grande comunione di intenti nonostante tutto in questa comunità così provata. Non mi stengono mai di ringraziare tutti questi volontari. La regione Campania in primis, la comunità montana che ogni giorno sul territorio di Monteforte più o meno ne conto più di 50. 50 operai che davvero stanno lavorando nelle case in mezzo alla strada. Gli operai della provincia idraulico forestale sono stati mandati. La misericordia, protezione civile e chiedo scusa se dimentico qualcuno perché sono tantissimi. Sindaco, l'ultima domanda. Che cosa è successo lassù in montagna? Purtroppo la bomba d'acqua è stata, come ho detto l'altra volta, 10 volte più forte dell'altra volta. Adesso sono stati fatti i voli con i troni, i sopralluoghi, si vedrà la causa di quello che è successo. Anche che noi con una sommorgenza avevamo messo in sicurezza perché se non avevamo fatto quel lavoro per le case che stanno a valle questa volta era davvero triste con la velocità che è arrivata la bomba d'acqua. Parliamo delle cosiddette vasche che si sono riempite, hanno avuto la loro funzione importante. Sì, hanno avuto una funzione importantissima, però purtroppo è stata troppo violenta e alla fine si sono riempite e l'acqua comunque è arrivata giù perché è arrivata con troppa violenza da monte.